E vi diamo un benvenuto veramente di cuore, siamo particolarmente felici di ospitare questa importante manifestazione. Ricordo che Mede da anni, ormai da oltre un decennio, collabora con Verona, con l'Associazione dei Giochi Antichi. Qui abbiamo il Presidente e il Vicepresidente che sono ormai due amici di Mede, sia Paolo che Giuseppe, sono stati più volte qui da noi, in occasione della presentazione di una importante monografia sul nostro Paglio, le prime 25 edizioni del Paglio, scritte da Pierangelo Boccalari che è qui presente, ma poi sono venute spesso durante le manifestazioni del gioco della Seramela, che sarà poi illustrato dai nostri rappresentanti del Fio della Lippa, per cui è nata questa amicizia e questa collaborazione. Noi siamo stati presenti diverse volte a Verona, in occasione dello Cianco, e soprattutto poi, quando è partita questa grande avventura, chiamiamola così, per il riconoscimento dei giochi antichi a livello planetario, noi ci siamo ovviamente adeguati a quello che era la proposta e ci siamo impegnati, ci stiamo impegnando ancora in questi giorni per far sì che questo percorso così complesso, complicato e anche lungo, è quello che sembra di capire, possa andare a buon fine e fare in modo che i giochi antichi, che sono veramente un patrimonio importante per tutti noi, vengano riconosciuti a livello proprio dell'UNESCO. Quindi noi siamo ospiti di questa manifestazione, ci auguriamo naturalmente che i nostri partecipanti si siano trovati, si possono trovare bene con l'accoglienza che abbiamo cercato di organizzare insieme con Aga, e diamo inizio a queste giornate, ancora un benvenuto, grazie di essere qui e speriamo tutti insieme di riuscire veramente dopo un risultato che penso sia un risultato storico per quello che è il gioco antico, una pratica importante che tutti noi cerchiamo di valorizzare e a questo proposito noi ricordiamo che il nostro paglio della ceramela che si disputa nella seconda domenica di settembre da una grande intuizione del professor Masinari, che purtroppo è mancato, ma a cui è anche dedicata la nostra biblioteca, come penso abbiate visto dalla targa qui all'ingresso, è stato l'ideatore del paglio della ceramela, che oggi conta ormai 36 edizioni, ne abbiamo svolta una proprio nel mese di settembre, e quindi devo dire che questa intuizione che si ricollega all'ambito contadino e agricolo della nostra terra, ma soprattutto al gioco da ceramela che si praticava qui per le nostre strade, oggi venga riconosciuto e valorizzato attraverso queste manifestazioni. Grazie a tutti e buon lavoro. Allora io dico soltanto due parole prima di dare la parola a Stefania Baldinotti, che qui rappresenta il nostro Ministero dei beni e delle attività culturali, e in particolare l'Istituto Centrale per la Demoetroantropologia, che ci sostiene questo percorso, che come diceva il primo cittadino ha veramente una grande avventura, c'è il tema sicuramente di questa candidatura UNESCO di Toccati come buona pratica di salvaguardia, comunità di comunità, ma soprattutto e fondamentalmente c'è il tema di questa serie di incontri che stanno rinforzando moltissimo il movimento dei giochi e sport tradizionali in Italia e in Europa e che vede finalmente anche le istituzioni entrare a sostenere, conoscere, riconoscere, contribuire a progetti di ricerca. Quindi abbiamo Regione Lombardia, con Agostina Lavagnino, qui presente con noi, che sta sostenendo un importante progetto di ricerca sul territorio regionale, e l'Istituto che contribuisce grandemente in questo momento a fare rete a livello nazionale in questo progetto. Quindi siamo stati a Primavera, a Roma, all'Istituto Centrale, con una serie, un bel gruppo di comunità rappresentative della ludodiversità italiana e oggi questo è veramente un momento importante perché è il primo incontro che organizziamo non nelle capitali, ma nei territori, sui territori di origine delle comunità. Quindi un momento di condivisione forte di quello che è il vissuto di tutti questi luoghi d'Italia, poco conosciuti, spesso conosciuti magari soltanto appunto per un palio, una festa, ma l'idea è proprio quella di andare più a fondo, conoscere il gioco, i giocatori, il suo senso sociale, culturale, nei contesti, nei contesti in cui viene praticato. Quindi siamo molto felici di essere stati accolti qui dalla comunità della Ceramella, che sono amici storici, diciamo, di Aga, e anche sottolineiamo l'interesse, l'importanza per noi studiosi, ricercatori, che lavoriamo sul tema del patrimonio culturale, e in particolare il patrimonio culturale immateriale, di queste reti di comunità. Perché in effetti, come ci diceva il sindaco, qui c'è una lunga storia di incontri, una storia di vent'anni di incontri, che poi Giuseppe e Paolo potranno, diciamo, un po' raccontare a coloro che partecipano per la prima volta, perché abbiamo dei nuovi partecipanti, come la comunità delle bis, la comunità femminile delle bis. Quindi è anche questo senso di una rete che si apre, che continua, che si rinnova, che produce nuovi incontri. Ecco, questo è per noi veramente un punto importante, un punto di forza. Quindi benvenuti a tutti a Mede. Speriamo anche attraverso il racconto della Ceramella di approfondire ancora maggiormente la conoscenza del gioco e del suo senso sociale anche dentro il palio, dentro e fuori dalla festa. E adesso do la parola a Stefania Baldinotti, che è anch'essa dentro questo grande cantiere della Convenzione. Ecco, ricordo, ho portato il nuovo testo della Convenzione per il patrimonio immateriale, perché rientro da un viaggio di lavoro proprio per il tredicesimo comitato intergovernativo e tutti noi che siamo qui intorno a questo tavolo ci siamo incontrati, diciamo, in parte anche in Italia, ma ci siamo conosciuti e incontrati proprio tra Parigi e questo incontro internazionale. Che cosa significa questo? Significa che esiste un internazionale del patrimonio ormai, del patrimonio immateriale, e che comunità e ricercatori hanno avuto la fortuna di trovarsi dentro questo cantiere, che poi nelle ore che seguiranno potremo anche approfondire, perché è un po' una rivoluzione che si è creata con questa Convenzione che mette le comunità al cuore, diciamo, dei processi di trasmissione del patrimonio. Quindi il gioco come cultura, e come cultura condivisa nella comunità. Stefania. Buongiorno a tutti. Ritualmente porto i saluti del direttore Leandro Ventura, che stranamente questa volta non è potuto venire, in realtà invece è sempre molto presente e segue con particolare attenzione ed entusiasmo le attività di AGA, le attività, anche il Tocatì, penso che partecipa sempre assiduamente, però questa volta aveva veramente altri impegni. Diciamo che ogni volta che ci vediamo in manifestazioni simili a questa, o comunque anche quando ci siamo incontrati a Roma, anche a Verona, durante il Tocatì, l'immagine che ho sempre in mente è quella della parola che utilizziamo nel gergo quando lavoriamo a preparare questi incontri. Noi usiamo il termine la carovana Tocatì, cioè c'è questa immagine delle associazioni e dei gruppi che stanno in un certo senso girando attraverso l'Italia per farsi conoscere, per raccontare, per raccontarsi. Quello che mi piace particolarmente è che in questa fase, forse per la prima volta sicuramente da quando io ho cominciato ad avere esperienza diretta con la salvaguardia delle comunità, le istituzioni, in questo caso il Ministero, l'Istituto, perché l'Istituto è una branca del Ministero autonomo, cioè un istituto autonomo che fa parte del Ministero e che è veramente un anello di congiunzione tra l'istituzione e le comunità. E' veramente la prima volta che l'Istituto sta in fase di ascolto. Cioè l'Istituto ascolta che cosa propongono le comunità, come si raccontano le comunità e in questo caso appunto le vostre comunità raccontano di giochi, raccontano di una socialità vissuta in maniera allegra, in maniera legata ad un aspetto positivo del vivere. E questo tipo di valori in un certo senso non possiamo salvaguardarli imponendo dall'alto regole, tetti, coperture normative che invece di salvaguardare in realtà bloccherebbero, congelerebbero la vitalità di elementi come quelli appunto legati al gioco. Quindi diciamo che in questa fase è stato molto arricchente veramente ascoltare e capire come comuni anche piccolissimi riescano a salvare, a trasmettere ai più giovani, a diffondere, a descrivere. E veramente forse è la prima volta che stiamo camminando lentamente, ci stiamo spostando dalla Convenzione 2003 per la salvaguardia del patrimonio immateriale, stiamo camminando lentamente verso la Convenzione di Faro, che è quella che metterà definitivamente in mano proprio la titolarità del patrimonio immateriale alle comunità che lo vivono. Questo per noi è stato molto importante e è stato molto importante anche vedere l'impatto che le giornate svolte a Roma hanno avuto sulla città, cioè nel piccolo, nel piccolissimo perché siamo riusciti a portare a maggio una dimostrazione di lippa all'interno di una scuola elementare, diciamo di una prima periferia romana. Io che ho lavorato molto tempo nella didattica con le scuole, devo dire che ho trovato il silenzio assoluto, la sorpresa, i bambini erano completamente rapiti da una descrizione di un gioco che non avevano mai conosciuto uno solo, ha alzato la mano perché sapeva di che cosa si trattasse e la stessa cosa è successa il giorno dopo quando le comunità di gioco hanno dato la manifestazione diciamo delle loro attività ludiche all'esterno dell'istituto, in un grande piazzale in zona euro a Roma, dove diciamo si fermavano le persone, i passanti, perché non era organizzato nulla, cioè non avevamo organizzato un evento con una pubblicità data tale che ci fosse un'affluenza di pubblico voluta, ma le persone si fermavano e capivano immediatamente che potevano provare, quindi questo significa che l'apertura, il senso di condivisione passava in maniera proprio diretta dai giocatori agli spettatori e tutti hanno provato, tutti abbiamo provato, sono state diciamo delle ore molto intense che hanno sottolineato e ci hanno fatto capire che la comunicazione, la diffusione, il narrarsi, il raccontarsi è fondamentale in reti come questa e poi diciamo se riusciremo a diventare grandi e arrivare al riconoscimento UNESCO, permettetemelo sarà una cosa in più, ma quello che c'è già dentro e quello che sta crescendo è veramente tanto e il riconoscimento in un certo senso sta già lì. Io non vorrei aggiungere altro perché sono ansiosa di sentire i racconti di queste nuove comunità che non conosco, ieri sera abbiamo già avuto insomma un piccolo approccio che ha aumentato l'appetito, ha fatto un po' d'antipasto e quindi adesso passo la parola ai nostri big. Beh grazie, allora come già stato detto questo incontro fa seguito ad altri due che sono stati fatti rispettivamente nel novembre dell'anno scorso a Verona e a maggio di quest'anno a Roma e nei due precedenti incontri le comunità che hanno partecipato sono state le medesime e non c'è stata una scelta con un certo criterio se non quello che abbiamo definito un po' le comunità con le quali avevamo da più tempo una relazione di scambio. Questo terzo incontro, come è stato detto, è anche il primo che si svolge sui territori delle comunità, se lasciamo perdere Verona che era presente anche con una comunità del gioco dello scianco ma insomma lì era il momento di partenza e quella non lo consideriamo. quindi questo l'importanza dell'essere sul territorio e permettetemi di dire, l'ha già detto il sindaco nel suo intervento, una comunità con la quale siamo partiti, il lavoro dell'associazione dei giochi antichi è partito subito, immediatamente con una relazione importante con il comune di Mede e il gioco della lippa e della ciaramela che si svolgeva già da qualche anno, se non sbaglio nell'81 è cominciato qui tutta l'attività. Quindi sicuramente ci ha dato la forza per cominciare tutto quello che poi è risultato essere un lavoro che si è allargato sempre di più fino ad arrivare a quello che siamo oggi con questo progetto di candidatura. Ma come si diceva, al di là del progetto di candidatura questi incontri vogliono far sì che il circuito delle comunità entri sempre più in relazione tra loro perché siamo convinti che solamente attraverso un rafforzamento della rete e comunque il lavoro singolo che si svolge, che svolgono le singole organizzazioni si rafforza sia a livello locale che a livello regionale e nazionale e solo in questa maniera riusciamo a portare avanti quello che è la nostra passione, il nostro interesse e sappiamo benissimo che vediamo con le relazioni che abbiamo tessute in questi anni che il ventaglio delle organizzazioni è molto ampio, è molto vasto. Ci sono federazioni sportive, ci sono organizzazioni che hanno indirizzato il proprio lavoro in ambito prettamente sportivo. Ci sono alcune organizzazioni invece che hanno scelto un'altra via. Ed è, permettetemi di dire, la cosa più interessante che c'è in questo mondo. Vedere come indirizzi diversi singolarmente possono entrare in relazione senza nessuna difficoltà. In quello che vedremo oggi abbiamo insistito nell'avere proprio questo tipo di apertura. Tra i vari interventi vedrete degli interventi che sono l'indirizzo affrettamente sportivo, non solo le bisse ma anche la pantalera è un indirizzo di questo tipo. E come altre attività invece hanno scelto una linea abbastanza diversa. e abbiamo voluto appositamente mettere a confronto anche questi sistemi che ognuno ritiene più opportuni per il proprio livello di organizzazione. E quindi sarà interessante anche vedere questo tipo di differenze. Io do la parola, siamo partiti leggermente in ritardo, do la parola a Giuseppe se vuole aggiungere qualcosa in merito e poi direi che potremo partire con il primo intervento della Ciaramela. Grazie. Intanto ringraziare nuovamente il Comune di Mede e la Comunità di Mede per questa disponibilità a fare da apertura a questo viaggio che è partito perché poi Toccati, come ce lo stiamo ripetendo da più tempo, non è più un festival ma è diventato un programma di attività. Prima si parlava appunto della candidatura UNESCO. Ci teniamo molto a sottolineare come già è stato detto anche da parte della dottoressa Baldinotti che più che l'obiettivo del riconoscimento è molto molto importante in questo momento, lo vediamo anche sicuramente in giornate come queste, il percorso. Cioè il vero valore di tutto questo progetto sta nel percorso di entrare in relazione con gli altri. Quindi io non direi altro perché il mio Presidente Paolo ha già detto più cose importanti e lascerei le parole poi agli attori principali e ci mettiamo in ascolto come si suol dire. Sì, scusate, solo una cosa, solo una cosa. Io vedo l'elenco adesso delle comunità presenti, un saluto particolare a Marino che arriva da Spilimbergo con il gioco delle Piocciche proprio perché è la prima volta, lui non è mai venuto al festival, ci siamo conosciuti e spiegherà lui attraverso altri percorsi e sono particolarmente contento che si sia fatto qualche chilometro per venire a Mede oggi. Grazie.